Ciao ragazzi, mi chiamo Trangitun99 In questo gioco noi siamo a Bros 2 Vi so che stiamo facendo le spiegazioni Dopo che in precedenza Vi ho spiegato la penultima casa dei Toad La casa dei Toad verde C'erano i funghi 1-Up Ora vi faccio vedere L'ultima casa di Toad La casa di Toad gialla Dove sono queste stelle All'interno del tetto Capito? Sopra di noi c'è Il blocco dorato Siamo nel secondo mondo Ok, vi faccio vedere la casa di Toad dorato Se mi seguite attentamente Allora, vedrete un Toad Che tira fuori un tesoro Senza niente Voi andate vicino al tesoro Ecco un fiore dorato E lo mettete al Toc screen, al vostro posto Capito ragazzi? E' divertente questa casa Ora avete il fiore dorato Dove potete fare quello che volete Capito? Ok ragazzi, vi saluto Vi aspetto nella prossima Videorecensione Che sapete cosa farò Vi farò vedere Alcuni livelli di questo gioco Deciderò io che livelli Capito? Capito? Vi aspetto nella prossima Recensione con alcuni livelli Capito? Ciao, arrivederci Continuate sui cremi Sempre in ogni videorecensione Ciao ragazze, arrivederci Grazie a tutti